54enne con insufficienza respiratoria acuta, niente anafilassi, problemi polmonari, né lesioni tracheali, tossicologico negativo per coca e anfetamine. Ti darò 30 ragioni, una per ogni chilo di troppo, che ha causato l'apnea, che ha infiammato l'epiglottide. Come mai la nostra coalizione arcobaleno è incompleta? 13 da un paziente e Katner ha il cane che non sta bene, arriva entro mezzogiorno. Non si tratta di apnea notturna perché non ha problemi quando dorme. Da 6 mesi assiste il marito che sta morendo per insufficienza cardiaca. Ragione 31, quello che ha distrutto il marito sta distruggendo lei. E oh bene, pensavo che Katner fosse a curarsi le costole che gli hai rotto sgomitando per il merito dell'ultimo paziente. Ho contribuito e il problema della paziente non deriva dal marito, a meno che il cancro non sia contagioso. Interessante, non quel noioso sproquio sulla paziente. Pensavo che mentissi per coprire Katner, un'azione nobile, che tu faresti per un senso di colpa, ma non per affetto. È andata alle Hawaii da sua sorella 6 mesi fa, poco prima che si ammalasse il marito. Può aver contratto la melioidose su una delle isole. Avrebbe contagiato il marito, fatto fuori lui e il suo pessimo sistema immunitario. Né tumori, né droga, né batteri. Resta un'infezione virale. Baricella Zoster. Padre della ciclovir per endovena. È escluso, vuole essere dimessa e tornare a casa con suo marito. Che dolce, per morire insieme. Invece di raggiungerlo a 40 anni di distanza. Sostiene che lui si è ripreso quando lei ha smesso di respirare. La mente è capace di guarire. Vedere la moglie in pericolo può avere frenato la sua morte. Ho avuto una scarica di adrenalina provocata dal miraggio di ritrovarsi single. Dimettetela pure. Non ce n'è bisogno. Ho avuto un'idea e mi è venuta da solo.